Le incertezze Mi sono resa conto che Alice non era lei Qualche momento di crollo ce l'ha avuto anche lui Le vittorie Oggi posso dire di essere felice Le emozioni Forse in quel momento mi sono veramente sentita la mamma di Laura Continua il racconto delle donne e degli uomini che affrontano ogni giorno grandi sfide Ne vogliamo che le due riscate all'epilessia Con Federica Sciarelli Dottori in corsia Ospedale pediatrico Bambino Gesù La nuova stagione Lunedì 11 gennaio Seconda serata Rai 3